Buongiorno, ben trovati all'appuntamento di venerdì 25. Il 25 settembre con mattino 6 la nostra consueta rassegna stampa che apriamo con il santo del giorno, le sante del giorno in questo caso che vengono ricordate il 25 settembre dalla Chiesa Cattolica. Si tratta delle sante Aurelia e Neomisia che nacquero in Asia occidentale da una famiglia nobile, rimaste orfane in età giovanile, diventarono subito schiave e furono condotte in Tracia, un'antica regione della Grecia. Liberate dalla schiavitù dei maomettani si recarono in pellegrinaggio nei santi luoghi della Palestina e nei più celebri santuari dell'Occidente per predicare il Vangelo di Gesù, adorare il Signore e pregarlo. Arrivarono in Italia portate da un mare in tempesta, guidate da un angelo dopo essere state in Puglia e in Lucania. Si stabilirono a Roma dove visitarono le memorie dei santi apostoli e ricevettero la benedizione del Santo Padre. Lasciarono poi Roma incamminandosi per la Via Latina. In quel tempo i luoghi erano infestati da soldati saraceni che le catturarono, frustarono crudelmente per la ripugnanza, ad arrendersi ai loro voleri, le ridussero in fin di vita e le avrebbero uccise se un violento temporale, particolarmente accecante, una luce accecante di un fulmine, non avessero spaventato i persecutori. Poi il 25 settembre, proprio nella giornata di oggi, la morte delle due sorelle martirizzate fu annunziata dal suono delle campane. I loro corpi furono lasciati prima nel borgo di Macerata e poi a causa di scorrerie di barbari furono portate nel monastero di Santa Reparata e successivamente nella basilica inferiore della cattedrale, dove riposano tuttora accanto alle reliquie di Santa Secondina, il giorno della loro morte, il 25 settembre, proprio il giorno in cui vengono ricordate dalla Chiesa Cattolica le sante Aurelia e Neomisia. Allora apriamo la nostra rassegna stampa con la prima pagina del centro, poi passeremo al messaggero per vedere i titoli di respiro nazionale dei quotidiani oggi in edicola. Partiamo dal centro per vedere la prima pagina, eccola qui, purtroppo ieri c'è stato l'ennesimo incidente mortale, un'altra tragedia sulle nostre strade. Avvocatessa muore nello schianto, tragedia ripatetina Silvia Gennaro, aveva lo studio a Francavilla al mare. E poi vedete la foto a centro pagina che riguarda le ricerche del frate che è scomparso a Maggiugori, il giallo di Maggiugori, una testimone però dice ho visto padre Luciano a Perugia e poi nelle cronache mare sporco, l'indagato è un dirigente sotto accusa per falso, parliamo dell'inchiesta per l'inquinamento del mare di Pescara. E poi si parla della fusione che è diventata realtà tra le camere di commercio di Pescara e Chieti. E poi a spoltore, piove dentro il nuovo asilo, scuona appena riconsegnata la rabbia dei genitori per questo inconveniente alla prima pioggia autunnale. Poi in alto, come vedete, si parla di cronaca nazionale, il caso Volkswagen colpisce la BMW controlli in Europa. Dunque un'inchiesta, un'indagine, una problematica gigantesca per il colosso tedesco che rischia di espandersi. Allora lasciamo il centro, andiamo a vedere insieme la prima pagina del messaggero, il quotidiano di Roma, per vedere come apre il messaggero nella prima pagina, quali sono i titoli principali. Ovviamente si parla anche dello scandalo auto, l'Europa trema, vedete, il caso Volkswagen, il ministro tedesco ammette test antismog truccati anche nell'Unione Europea. Voci sulla BMW che nega il settore, crolla in borsa, controlli in Italia, inchiesta a Torino. E poi la foto che riguarda la visita del Papa Berboglio negli Stati Uniti. Obama colpito ma non si cambia, la fondo del Papa al congresso americano, stop appena di morte, traffico d'armi. E dunque parole importanti, quelle di Papa Berboglio, proprio dinanzi al congresso americano. E poi si parla di sanità senza analisi inutili, tagliamo gli sprechi, le liste d'attesa. C'è l'intervista al ministro della Sanità Lorenzin che dice critiche dei medici infondate, colpiti, solo gli abusi. E poi c'è un decreto importante che farà piacere un po' a tutti perché c'è lo stop all'aumento della benzina. E poi in basso il massacro alla Mecca, morti calpestati, oltre 700 pellegrini. Questa tragedia accaduta proprio nei giorni in cui i musulmani vanno a visitare l'importante luogo di culto. Allora andiamo a vedere le pagine interne. Partiamo dunque dal messaggero con la cronaca nazionale, la visita del Papa negli Stati Uniti. Il Papa al congresso, stop pena di morte, la replica di Obama, niente cambiamenti. Il pontefice alle camere riunite fermare il commercio di armi e sui migranti dice questa è la terra dei liberi, non temiate gli stranieri. E questo è il primo pontefice, Papa Bergoglio, che parla al congresso americano. E poi dalla 500 nera ai pantaloni stropicciati, look da Latinos che piace agli americani. Papa che è arrivato proprio all'incontro con Obama a bordo di una 500. Pagina 3, quel manifesto di Bergoglio rivolto anche a chi non crede nelle parole di Francesco, idee ed impegni che gli stessi non cattolici sanno condividere. I risultati della silenziosa azione diplomatica vaticana finiti in Colombia. 40 anni di guerriglia. Andiamo ancora avanti, anzi prima di passare a pagina 4 vediamo questa foto, una foto davvero significativa, un abbraccio e poi la lettera. La bimba commuove il pontefice, vedete il Papa che si appresta ad accarezzare questa bambina americana. Siamo a pagina 5, ecco qui lo scandalo Volkswagen, Europa coinvolta, caso BMW. Il ministro dei trasporti tedesco ammette i test antismog sono stati truccati anche nell'Unione Europea, scivolone, anche in borsa di Fiat, meno 7,5%. La casa automobilistica di Monaco, la BMW, nega le indiscrezioni che la vedono implicata ma il titolo crolla in borsa, meno 5,5%. Vedete in questo grafico che ieri in borsa per le case automobilistiche non è stata una giornata positiva, anzi è stata una giornata molto negativa. Vedete tutti in negativo i titoli delle case automobilistiche. Italia controlli su 1.000 auto a Torino, si apre l'inchiesta e poi Bruxelles conferma la tolleranza a zero. In arrivo nuove regole sulle emissioni. Proseguiamo, pagina 6, svolta al vertice del Colosso. In arrivo Müller della Porsche, oggi riunione del Consiglio di sorveglianza della Volkswagen per scegliere il nuovo vertice. Perché ricordiamo che ci sono state le dimissioni dell'amministratore delegato ma anche di altri importanti esponenti della casa tedesca. Candidato numero 1 alla successione, il manager fautore del miracolo dell'Audi A3. E per Wintercorn, proprio l'amministratore delegato di cui parlavamo, che si è dimesso l'altro ieri, una buonuscita fino a 61 milioni. Pagina 8. Si parla di pensioni, pensioni anticipate per esodati e donne. Boeri, il presidente dell'Inps, dice agli uomini assegni più elevati. Padoan, il ministro dell'Economia e delle Finanze, apre alla flessibilità misure nella legge di stabilità. Uscita con penalità a 63 anni, le coperture dai fondi già stanziati. Vedete poi in questo grafico sulla destra come calcolare la pensione, dunque anche eventualmente quello che si potrebbe perdere andando in pensione prima dell'età stabilita per legge. Pagina 9. Benzina, bloccato l'aumento più tempo al rientro dei capitali, arriva un decreto per congelare il rialzo delle accise che sarebbe scattato ad ottobre. La sanatoria sui fondi esteri prolungata a fine anno, possibile gettito di 5 miliardi. Proseguiamo, pagina 11. Senato, alta tensione, governo Grasso, parliamo di politica interna. Il presidente fissa il voto finale per il 13 ottobre per consentire il dibattito sugli emendamenti. Non sono il boia della Costituzione, dice. Partito Democratico preoccupato, così si rischia di non fare in tempo, prima della sessione di bilancio che parte il 15, l'Ira di Renzi, ora sta a Pietro, che sarebbe Pietro Grasso, presidente appunto del Senato. E poi Rai, scoppia il caso Ricorsi per i neoconsiglieri, stanza doppia, uso singola. Diaconale, dall'allarme in CDA, 1.350 avvertenze interne dei dipendenti. E proseguiamo, siamo a pagina 13, la roadmap di Verdini, il solo leader, ora è Renzi, parliamo ancora di politica interna. La scommessa, il Partito della Nazione, primo test, le amministrative al fianco del PD. Di Forza Italia lancia la campagna, basta traditori. Berlusconi si prende un eurodeputato dell'NCD, ma nei giorni scorsi avevamo visto che da Forza Italia diversi parlamentari e senatori erano passati armi e bagagli proprio nel movimento di Verdini, l'ala. Salvini, Fitto e Ronchi, ricostruiamo il centrodestra, si parla in questo articolo più in basso del progetto per ricostruire il centrodestra in Italia. Pagina 15, missione antiscafisti, al via il 7 ottobre, l'annuncio di Mogherini a Parigi, vertice su Libia e Siria, tra Unione Europea, Francia, Germania, Gran Bretagna, l'Italia non è invitata. La Farnesina, riunioni se ne fanno tante, Renzi domani negli USA, vedrà Obama, il presidente russo. Bene, il riavvicinamento. E poi c'è questa notizia che riguarda il Dalai Lama che dice, parla in pratica in prospettiva futura, dopo di me una donna, ma dovrà essere bella. E poi, tornando alle questioni di politica internazionale, Putin pronto ai raid anti-ISIS. Merck coinvolgere Assad, che è il presidente della Siria, dove da tempo c'è ormai in atto una guerra civile, sanguinosa, che ha causato purtroppo decine di migliaia di morti. E c'è stata una strage alla Mecca, 700 morti nella ressa, travolti dalla folla durante la lapidazione di Satana, oltre 800 i feriti. E il bilancio più grave, in 25 anni, il governo saudita dice tutta colpa dei fedeli indisciplinati. Teran accusa errori di riad nelle misure di sicurezza. Proseguiamo, pagina 19 del messaggero, e parliamo di sanità, senza più analisi inutili, meno sprechi e meno file. Parla in questa intervista, tutta pagina, sul messaggero il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, che dice che per i pazienti non cambia nulla, i medici continueranno a prescriverle chi ne abusa, però dovrà dare spiegazioni. Si parla di prescrizioni, di analisi. Le regioni polemizzano norme nuove, volute da loro. Pagina 20, guardie forestali addio. Ecco il decreto. In 7000 diventano carabinieri. Dunque, si avvicina il giorno in cui ci sarà la soppressione della guardia forestale. Tutti gli appartenenti al corpo passeranno sotto l'arma dei carabinieri. Pronta la bozza per l'accorpamento. Solo poche centinaia di uomini verranno destinati a polizia, vigili del fuoco e finanza. E c'è la protesta dei sindacati. Noi siamo sempre stati un corpo civile, polemica anche sui risparmi. E Palermo, l'inchiesta sui beni della mafia, Orlando invia gli ispettori in tribunale. Questo dunque per quanto riguarda questa pagina. Poi c'è un altro importante articolo in basso, a fondo pagina, che riguarda questo ragazzo, un paraplegico, che è tornato a camminare dopo cinque anni di paralisi. Si è mosso grazie ad elettrodi collegati al cervello e ha percorso oltre tre metri. Una notizia importante che potrebbe aprire nuovi scenari proprio sulla cura dei paraplegici. Andiamo ancora avanti e siamo alle pagine dell'economia. Abbiamo visto anche il decreto per bloccare l'aumento della benzina. E intanto riparte di slancio il mercato della casa per l'osservatorio dell'Agenzia delle Entrate. Le compravendite di immobili nel secondo trimestre del 2015 sono aumentate del 6,8%. Il settore residenziale è salito dell'8,2%, quello commerciale del 10,3%. Le pertinenze del 6,1%. Al palo il comparto produttivo. Ancora economia. In questo caso si parla di banche del Monte dei Paschi di Siena. Viola dice più liquidità dopo l'intesa con Nomura. E poi Confindustria, Confindustria che dice l'ILVA così rischia il collasso. Mentre a pagina 27 si parla di Finmeccanica e del via alla società unica approvato dal CDA. Il nuovo modello fortemente voluto dall'amministratore delegato Moretti. Riassetto operativo da gennaio. Il gruppo ramificato in quattro settori che coordineranno le sette divisioni oltre al John Venture e alle partecipate. Siamo giunti all'inserto macro, dunque possiamo passare a vedere i titoli di respiro nazionale del centro. E poi come sempre alle 7.20 apriremo la pagina relativa al meteo con il nostro Giovanni De Palma. Pagina 2 del quotidiano Il Centro. Si parla del Dieselgate. Lo scandalo, il ciclone Volkswagen travolge la BMW, la casa bavarese nega polemiche sulla maxiliquidazione dell'ex amministratore, a questo punto delegato Winterkorn Guariniello, avvia un'indagine in Italia, abbiamo visto a Torino in particolare. E il presidente di Fiat Elcan dice, caso grave, noi rispettiamo regole e ambiente. Pagina 3, riforme, lo scontro, Grasso resiste al pressing del PD. Voto finale, convocato il 13 e non l'8. Come chiesto, tiene l'asse con i verdiani, Movimento 5 Stelle, compravendita, dice. Intanto Forza Italia preme su Berlusconi e chiede torna in campo. Proseguiamo, siamo a pagina 4 del centro. Stati Uniti, la visita di Papa Bergoglio, che dice, fermate il commercio d'armi, la prima volta di un pontefice davanti al congresso, basta pena di morte. Obama risponde, nessun cambiamento. Pagina 5, la Mecca, oltre 700 morti durante il pellegrinaggio. Abbiamo visto questa tragedia. Arabia Saudita, 2 milioni di persone in cammino per il giorno sacro. Nella Calca restano feriti anche più di 800 fedeli. L'Iran dice falle nella sicurezza. Dunque polemica tra Iran e Arabia Saudita sulle cause che hanno provocato questi 700 morti alla Mecca. Pagina 6, ancora cronaca nazionale, attesi 7 milioni di siriani. L'Unione Europea proteggerà i confini. La Turchia lancia l'allarme. Tusk dice la Grande Maria deve ancora arrivare. Tensione Croazia-Serbia, missione antiscafisti. La fase 2 si chiamerà Sofia, che dir si voglia. Rubiter sulle intercettazioni decide il GIP. 11 telefonate tra Berlusconi e due oggettine da inviare al Senato. Si parla dell'inchiesta Rubiter. In basso si parla invece di Provenzano, perché per la Cassazione l'isolamento salva la vita di Provenzano, il boss di Cosa Nostra, scusate, che è alle prese con gravi problemi di salute. Dunque per la Cassazione, proprio l'isolamento è alla base del miglioramento delle condizioni di vita del boss della mafia. Siamo a pagina 7 per iniziare a dare uno sguardo alle pagine di cronaca regionale. Dal centro, il concorso di Coldiretti. Si parla di giovani impresa, non solo agricoltura. Ecco gli Oscar Green, molto digitale. Collaborazioni con altri settori produttivi e incursioni nel sociale. Questi progetti degli imprenditori agricoli Under 40, vincitori dell'edizione 2015. E poi si torna a parlare di ferrovie, perché pochi giorni fa c'è stato il primo viaggio del Frecciarossa, la prima fermata del Frecciarossa a Pescara, ma ci sono dei tagli e rischia l'Intercity Bologna-Pescara, un treno storico che collega proprio il capoluogo adriatico al capoluogo emiliano. E in basso invece si parla di sanità, perché ci sono delle notizie importanti. Ortona, il TAR, frena su ginecologia, ma respinge il ricorso contro la chiusura del punto nascita. E poi l'ospedale di Gissi torna H24, TAR, sia la sospensiva su riduzione di 12 ore del punto di primo intervento. Su tutto questo andiamo a vedere il punto della situazione nel servizio che è stato realizzato per noi da Alfredo Primante. Svolta nella battaglia legale per la salvaguardia del punto nascita di Ortona, il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto la richiesta di sospensiva degli effetti della delibera del 3 luglio 2015, firmata dal direttore generale dell'ASL di Chieti, Pasquale Flacco, per la parte riguardante l'interruzione dei ricoveri per le malattie e i disturbi dell'apparato riproduttivo femminile e per la parte ginecologica dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Barnabeo di Ortona. Per il consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febo, il provvedimento rimette in discussione la scellerata politica regionale sulla sanità. Meno preoccupato invece è l'assessore regionale Silvio Paolucci che parla di una sostanziale tenuta della linea politica della regione. Il Tar dice ci ha dato ragione. A mio avviso non bisogna fare questi errori anche perché i legislatori debbono conoscere che un punto nascita è il reparto di ostetricia. E a maggior ragione laddove dovesse essere utile un decreto commissariale mi sembra che questa poi sia in fondo la richiesta per la trasformazione da ginecologia chirurgica oncologica. Lo faremo anche perché di chirurgia oncologica ce n'è bisogno in Abruzzo e soprattutto per quanto riguarda l'apparato riproduttore femminile mentre della ginecologia chirurgica viene una sovrabbondanza a Ortona ma non soltanto ad Ortona. Cioè in realtà noi eleviamo il profilo dell'offerta ospedaliera nel caso di specie. La trasformazione da una ginecologia chirurgica a una oncologica vuol dire fare una prestazione di più elevata qualità. Al di là della battaglia politica resta da capire cosa accadrà adesso al punto nascita di Ortona chiuso dal primo settembre e soprattutto agli altri punti nascita tagliati penne sul Mona ed Atri. Sta di fatto che l'uscita dal commissariamento è legata proprio al nuovo disegno di politica sanitaria connessa alla sopravvivenza o meno dei punti nascita, al contenimento della spesa e all'inalzamento dei livelli essenziali d'assistenza. Prima del meteo altri due titoli che riguardano la cronaca regionale dalle pagine del centro il governo ha deciso, la centrale SNAM si farà sul Mona vertice alla presidenza del Consiglio con Regione Comune. D'Alfonso chiede che l'impianto sia almeno a impatto zero e poi Trivelle, referendum a Primavera, Ombrina va avanti. Sono le 7.22 minuti, dunque possiamo parlare di meteo, di tempo, di previsioni anche per il weekend con il nostro Giovanni De Palma a cui auguro innanzitutto una buona giornata. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora Giovanni, siamo negli ultimi giorni di settembre, è entrato ufficialmente l'autunno, abbiamo visto ieri delle piogge anche discretamente intense nella nostra regione, cosa ci dobbiamo attendere per la giornata di oggi e anche per il weekend, visto che siamo a poche ore dall'inizio del fine settimana? Eh sì Paolo, è arrivato l'autunno anche dal punto di vista meteorologico, perché questa perturbazione ha favorito non solo piogge intense, soprattutto nel Terramano, nel Pescarese, sulle zone collinari che si affacciano sul versante orientale, ma ha determinato una sensibile diminuzione delle temperature, tant'è che attualmente i valori sono al di sotto delle medie stagionali. Ora questa perturbazione nelle prossime ore, pur in spostamento verso i vicini Balcani, continuerà ad interessare le regioni centro-meridionali Adriatiche e ci sarà spazio ancora degli annuvolamenti piuttosto intensi, soprattutto sulla fascia orientale della nostra regione, dove sono previste delle piogge, dei rovesci, localmente a carattere temporalesco, più probabili comunque nel Pescarese e nel Chietino. Nel Chietino in particolare esiste la possibilità di temporali. Andrà meglio invece sulla Marsiche e nell'Aquilano, dove la nuvolosità sarà meno compatta e ci sarà spazio anche per delle schiarite, perché questa perturbazione comunque interesserà soprattutto nelle prossime ore il settore orientale della nostra regione. Nel corso del fine settimana poi, Paolo, avremo un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, perché la perturbazione si sposterà ulteriormente verso Levante, però continueranno ad affluire masse d'aria fresca proveniente dai quadranti nord-orientali e dai quadranti settentrionali e di conseguenza ci sarà spazio ancora degli annuvolamenti, sempre più frequenti sul versante orientale della nostra regione. Quindi non sarà un weekend di sole, molto probabilmente saremo interessati ancora con della numelosità, che occasionalmente potrà dar luogo a delle precipitazioni, però più probabili sulle zone montuose e pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico. Forse domenica avremo qualche schiarita in più, ma sarà comunque una situazione temporanea perché alla luce dei dati attuali a nostra disposizione emerge la possibilità dell'arrivo di nuove perturbazioni, soprattutto nelle giornate di mercoledì, martedì e mercoledì, perché si intravede l'arrivo di un impulso di aria fredda dai quadranti nord-orientali che raggiungerà dapprima le regioni settentrionali, poi la Francia si riverserà poi sul Mediterraneo occidentale, innescando la formazione e l'approfondimento di una circolazione depressionale che poi gradualmente si estenderà verso la nostra regione a partire da mercoledì e nella giornata di giovedì. Ovviamente si tratta di una tendenza che dovrà essere necessariamente confermata nel corso dei prossimi giorni, Paolo. Sì, Giovanni, prima di salutarci, visto che domani si giocheranno delle partite importanti nel campionato di Serie B con le nostre squadre in trasferta, parliamo di Pescara e Lanciano, che giocheranno rispettivamente a Vicenza e Modena, io ti chiedo, anche a beneficio, dei tanti tifosi di Pescara e Lanciano che seguiranno le squadre in queste due gare esterne. Che tempo prevedi domani a Vicenza e Modena? Guarda, questo peggioramento sta interessando, interesserà soprattutto il medio-basso versante Adriatico. Tuttavia potranno essere presenti degli annuvolamenti, ma sicuramente non ci saranno fenomeni di rilievo, soprattutto in terra Veneta, mentre qualche annuvolamento in più sarà possibile invece sull'Emilia-Romagna. Quindi non si esclude qualche piovasco sull'Emilia-Romagna, proprio perché continuano a fluire masse d'aria fresca dai quadranti nord-orientali. Quindi andrà meglio forse in terra Veneta, a Vicenza, ma qualche annuvolamento un po' più compatto sarà possibile invece sulla città di Modena, ma soprattutto sull'Emilia-Romagna, Paolo. Dunque potranno stare più tranquilli gli sportivi che raggiungeranno Vicenza e Modena rispetto al tempo che ci sarà invece nella nostra regione. Io ringrazio come sempre Giovanni De Palma, grazie Giovanni, buona giornata, buon lavoro, l'appuntamento ovviamente con te per domani alle 7.20 del corso di Mattino 6. Buona giornata. Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Ringraziamo Giovanni De Palma, direttore del sito www.abruzzometeo.org, uno strumento fondamentale per restare sempre aggiornati sulle previsioni del tempo. Vedete i live delle nostre città e in primo piano la situazione del tempo nella nostra regione. Poi la pagina Facebook per interagire con il nostro meteorologo e restare informati anche attraverso questo social network delle previsioni del tempo per la giornata di oggi, ma anche per i prossimi giorni, per il weekend, abbiamo visto che il tempo continuerà a fare i capricci. Chiudiamo la parentesi del meteo. Prima di tornare ai nostri quotidiani per continuare a leggere la cronaca regionale, e poi delle varie province, dal centro, dal messaggero e poi dalla città di Teramo. Noi ci fermiamo per qualche istante. Di nuovo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Siamo alle pagine di cronaca regionale del messaggero. La prima pagina si apre con il titolo riguardante l'incidente mortale accaduto ieri mattina a Ripateatina. Schianto muore avvocatessa. Silvia Gennaro di Guardia Grele, figlia di un giudice in pensione, era attesa da un'udienza ferita la conducente dell'altra auto coinvolta nell'incidente e in gravi condizioni. Poi c'è questa foto che riguarda la bomba ecologica. Sulle sponde del fiume Pescara è stata scoperta una discarica abusiva che è stata posta sotto sequestro dagli uomini della Guardia Costiera di Pescara. E poi a vasto paura per un ragazzo scompare e ritrovato a sera dopo diverse ore. E poi a Roma, Brucchi, il sindaco di Teramo, dice no a tagli ed accorpamenti. E poi sanità tar sospensiva, ma non sul punto nascita. Abbiamo visto anche il servizio di Alfredo Primante. Poi c'è questo articolo che riguarda la maiella di Corsa sulla maiella nel nome di Papa Celestino V. Siamo a pagina 2 della cronaca regionale. Emiciclo trovata l'intesa sulla norma Bavaglio. Parliamo di Consiglio regionale. Le opposizioni avevano esibito magliette con una ghigliottina. Passa all'unanimità l'adesione al referendum contro le trivelle in mare. E poi Camere di Commercio di Chieti e Pescara. La Stato-Regioni dà l'ok alla fusione di Vincenzo e Beci. Due presidenti. Adesso il futuro delle imprese è sereno. Poi si parla del processo Grandi Rischi. Bertolato, udienza verso il rinvio. Pagine provinciali. Partiamo proprio dal messaggero. Ricerca e giochi di luce. La città si accende. Siamo all'Aquila. Giornata ricchissima di eventi. Grazie a Sharper e Replace. Dunque questa importante iniziativa che si svolgerà nel capoluogo regionale. Poi si parla di industria. Ha sbloccato l'immobile per Fenix. La Giunta approva l'atto di indirizzo. E poi precari. Arriva l'ok dal Ministero. Ma al Comune non sono convinti. Rita Innocenzi della CGL dice resteremo a presidiare. E poi a Paganica è recuperato il primo aggregato. Siamo alla seconda pagina. Vezzano-Surmona. Powercrop ricorso al Consiglio di Stato. Sul caso della centrale Biomasse il Comune decide di impugnare la decisione adottata dal Tar dell'Abruzzo. Battaglia per impedire la costruzione dell'impianto proprio all'interno della riserva del Salviano. E poi Travezano e Castelnuovo a Casale e Lanciani. Sparatori all'ordine del giorno. E a Sulmona a scuola Masciangeli. Il bando è sbagliato. Sempre nella città Peligna. Bici contro mano in centro. E polemica. E sulla autostrada 24 bus arpa in panne sotto la galleria. Andiamo avanti. Cronaca di Pescara. Ritroviamo il titolo che avevamo visto nella prima pagina. una discarica pirata lungo il fiume Corso d'Acqua deviato da cumuli di materiali pericolosi e scarico di liquami inquinanti. Direttamente nel Pescara la guardia costiera scopre un terreno di 8.000 metri trasformato in deposito abusivo di macerie, bitume e plastica. C'è stato questo sequestro che riguarda proprio questa discarica lungo il fiume Pescara. E poi l'Acherelli, quadri spostati, lite tra comune e il mecenate Alfredo Paglione. Mentre per quanto riguarda l'inchiesta sul mare inquinato di Pescara, il direttore dell'area tecnica Vespasiano è indagato per l'ordinanza fantasma. La procura ipotizza il falso. Sequestrati in comune anche telefoni e computer. E poi il benvenuto. Festa in strada per gli universitari. Domani e domenica. Viale Pindaro chiusa al traffico. E tanti eventi per salutare il ritorno a Pescara. Riprende anche l'attività universitaria negli Atenei abruzzesi. Ancora Pescara. Posti fissi di polizia e telecamere contro i bivacchi. In stazione vertice in prefettura con le forze dell'ordine. Polizia Municipale, Comune e Trenitalia. Misure per contrastare la bomba sociale. E poi fuga finita. Il killer di Foggia. Preso a Pescara. Girovagava per le strade di Pescara a bordo della propria auto. Forse voleva costituirsi. Giuseppe Volpe, 45 anni, indiziato di delitto per l'omicidio di Giuseppe Bonaventura. Compiuto lo scorso 20 settembre a San Severo, in provincia di Foggia. E poi l'allarme, cambiando argomento, ad Abbateggi. I lupi fanno strage di pecore. Pagina 53. Auto, tranche, tubi di acqua e gas. 30 famiglie a secco, per ore allarme, esplosione a Spoltore. Dopo l'incidente avvenuto, incontrata Pescarina. Una Ford Ka guidata da una donna è finita fuoristrada a causa della pioggia, travolgendo la colonnetta dei contatori. Fortunatamente per la donna non ci sono state conseguenze. E poi la cabina di regia. Via due giudici, processo azzerato. Politiche e affari. A Spoltore il dibattimento. Riparte da capo con la prescrizione dietro l'angolo. E poi c'è questo articolo che riguarda Popoli. L'ospedale Castricone, deputato del PD, dice così difendo l'ospedale. Andiamo avanti. Pagina di Chieti. Schianto, muore a 39 anni. L'avvocatessa Silvia Gennaro, toga in lutto, era la figlia del giudice Antonio. Ora in pensione. Questa tragedia, veduta ieri proprio a Ripa Teatina, lungo la strada del Fondovalle a Lento. Andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato. Il fondo stradale viscido per la pioggia e la scarsa visibilità per la nebbia sarebbero fra le cause dell'ennesimo incidente stradale mortale accaduto questa mattina intorno alle 8.40 lungo la strada provinciale Fondovalle a Lento nel territorio comunale di Ripa Teatina e in cui ha perso la vita Silvia Gennaro, 39 anni di guardia grele, avvocato e figlia del giudice in pensione Gennaro per diversi anni in servizio al Tribunale di Teramo. La vittima, che viaggiava a bordo di una Fiat Panda in direzione di Francavilla al mare, si sarebbe scontrata frontalmente con un'altra vettura, una Peugeot Station Wagon, che procedeva in direzione di Chieti. Il violentissimo urto non ha lasciato scampo alla donna, che è morta praticamente sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Ricoverata all'ospedale clinicizzato di Chieti una 24enne, che sarebbe in gravi condizioni, meno gravi invece le ferite riportate da una terza persona, sempre ricoverata all'ospedale civile del capoluogo Teatino. Proprio a causa della pioggia e della nebbia presenti nella zona, i soccorsi non sono potuti arrivare con l'elisoccorso, ma con delle ambulanze. Il traffico è stato bloccato su una corsia per diverse ore. Gli agenti della Polizia Stradale stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Ancora cronaca di Chieti dalle pagine del messaggero. La provincia vende i beni ed evita il dissesto finanziario, il disavanzo era di 13 milioni di euro. C'è il Via Libera, ieri vi abbiamo proposto il servizio su questa importante trattativa che ha visto protagonista la provincia di Chieti con l'intervista realizzata con il presidente della provincia Teatina, Mario Pupillo. E poi ancora Chieti, rapina a casa del Duca e caccia al basista. Siamo alla pagina di Lanciano Vastortona. Dottavio si salva oggi la nuova squadra. Il sindaco evita il commissariamento sul caso bilancio, riuscendo ad ottenere i nove voti necessari giallo sull'orario. Gli assessori saranno de jure riconfermato e le new entry. Schiazza, Danchini, Menicucci è licenziato, incerto, il vice. E poi Lanciano, Sevel, Valdisangro, sei ore di sciopero. E sempre a Lanciano, in pratica nell'area frentana in questo caso, perché siamo proprio nella città frentana, presi dopo il furto di un'auto rubata a Francavilla al mare. A Ortona il dragaggio del porto resterà in completo. In questo articolo si parla della vicenda. Febbo e Ceri, esponenti del centro-destra, dicono che il progetto di escavazione deve essere modificato radicalmente. E poi cambio al vertice della compagnia dei carabinieri di Atessa, il tenente Ruffini subentra al capitano Massimo Dilena, trasferito a Trieste. Ancora Lanciano, Picchiola convivente in vacanza assolto, a basto feste con il ministro Madia. Proseguiamo, siamo alla cronaca di Teramo. Tercas e Suveri e Filiali sono ora il vero nodo, il giorno dopo la decisione del Gup di Roma sul Crac. Un ballo, soprattutto un assestamento, che porterà la Banca Popolare di Bari a divenire una S.P.A. E poi cronaca, pornografia, pedofilo, patteggia 5 mesi. E poi la vicenda dell'insegnante disabile, spedita a 250 chilometri. Pagina di Giulianova, Roseto, Val Vibrata. Maxi frode fiscale di ditte cinesi, sequestrati beni per 800 mila euro, tra gioielli, contanti, immobili e SUV. Nei guai, sette ditte di abbigliamento. L'operazione denominata Chinese Chain, messa a segno dal nucleo provinciale di polizia tributaria della Guardia di Finanza. Ieri c'è stata un'importante conferenza stampa del procuratore di Teramo, Guerriero, proprio per illustrare i dettagli di questa operazione. Andiamo a vedere il servizio di Francesca Romana Testi. Una frode fiscale stimata in 800 mila euro tra beni immobili, conti correnti e preziosi. Sette indagati, tutti di nazionalità cinese. A capo dell'organizzazione, un uomo e una donna con ruoli di comando e direzione dell'attività illecita. Si tratta di ditte operanti nel settore della lavorazione e dell'abbigliamento nell'area industriale Val Vibrata-Tordino. L'operazione è stata portata a termine dal nucleo della polizia tributaria di Teramo. Tutta una serie di complessi accertamenti che hanno fatto emergere sostanzialmente la truffa, lo stratagemmo utilizzato da queste imprese cinesi che fingevano di avere dei subappalti, in realtà erano delle cartiere. In realtà non consegnavano a nessuno queste attività che erano attività di ginseria ed incassavano in questo modo ingiustificatamente i costi evadendo in misura rilevante il fisco. Fondamentale il lavoro dell'autorità giudiziaria dei finanzieri che hanno operato l'acquisizione di tutti gli elementi probatori senza attendere l'esecuzione delle verifiche fiscali. Era un'attività sistematica, prolungata che loro ponevano in essere ripeto, fingevano di darlo in subappalto questa attività ad altri per scaricare i costi in realtà li consigliavano poi ai fornitori italiani. Un sequestro ingente da parte dei finanzieri che si aggiunge a quello già prodotto fino ad oggi si parla di 60 milioni di euro tornati nelle casse dello Stato che sottolinea l'importanza del lavoro delle forze dell'ordine sul territorio. La sinergia con la Guardia di Finanza con l'ufficio finanziario ha portato dei risultati e tecniche di indagini particolarmente sofisticati posso in essere dai magistrati della Procura di Termo hanno portato questi risultati così eclatanti oltre 60 milioni di euro sequestrati come ha indicato anche il Presidente della Corte d'Appello nell'ultima relazione all'anno giudiziario. Quello delle organizzazioni cinesi è solo uno dei tanti gruppi che mettono a rischio il sistema economico del territorio come ricorda il Procuratore della Repubblica Guerriero l'opera di repressione criminale interessa regioni confinanti e etnie diverse. Ma voi sapete che questo territorio ha una serie di etnie diverse dagli albanesi rumeni abbiamo Roma abbiamo Marocchini che sono strettamente collegate alla criminalità napoletana pugliese, laziale che insieme stanno ponendo in stese tutta una serie di attività criminose su cui stiamo sviluppando importanti indagini. Cambiamo argomento siamo sempre dalle pagine di Giulianova e Roseto e Val Vibrata Roseto sono pochi gli spazi per poter fare cultura in questo articolo e poi Giulianova il Tarre spinge il ricorso contro la settimana corta sempre a Giulianova Tari, botta e risposta Retco, Mastromauro e poi Val Vibrata un weekend di sport mentre ad Alba Adriatica denunciato dopo aver minacciato una donna con il coltello siamo arrivati alle pagine dello sport dunque passiamo al centro per vedere le pagine provinciali del quotidiano da Abruzzo apriamo con Pescara ho visto padre Luciano seduto in strada a Perugia una testimonianza sul prete scomparso fa scattare le indagini dei carabinieri la donna e il marito stavano viaggiando in auto avrebbero notato il sacerdote nelle vicinanze dell'aeroporto dell'Umbria lo avrebbero poi riconosciuto in televisione e poi la testimonianza del giornalista Paolo Brosio ho avvisato immediatamente il generale dei carabinieri Francesco Benedetto per verificare la segnalazione siamo all'indagine sul mare sotto inchiesta per falso il super dirigente comunale divieto di bagnazione fantasma avviso di garanzia all'architetto Vespasiano perquisiti due uffici sequestrati computer e telefono anche a Dezio e Alessandrini vedete questo risvolto vuole farsi interrogare dai magistrati e poi pagina 25 in aula la protesta delle magliette il consiglio sull'inquinamento rischia di saltare ancora scontro tra Forza Italia e Partito Democratico e poi c'è Di Pietrantonio esponente del Partito Democratico che dice acqua pulita nessuno sbaglio proseguiamo siamo a pagina 26 Movida in via Battisti slitta l'ordinanza per abbassare gli orari in inviato il giro di vite promesso dal comune dopo le proteste da oggi tre notti di festa con l'Aism per cercare volontari stazione controlli potenziati donna arrestata per due furti e poi capolavori perduti il Movimento 5 Stelle dice danno alla città il comune chiarisca e poi c'è in questo articolo in basso un grazie ai vigili del fuoco di una donna per un intervento proprio dei vigili effettuato nei giorni scorsi siamo alla vicenda positiva che si è chiusa positivamente della fusione fra le camere di commercio di Pescara e Chieti fusione che diventa realtà il sì definitivo dalla conferenza Stato-Regioni vedete nella foto i due presidenti poi pagina 26 fondazione sulle staminali con tutti i big della ricerca stasera al massimo presentazione raccolta di fondi per il nuovo ente di solidarietà talk show con di Bartolomeo la musica di Bungaro e l'orchestra femminile e poi un'altra notizia che riguarda i melanomi domani convegno della Lilt con Eskening gratuiti siamo alla pagina di Montesilvano si parla di affido professionale di questo progetto famiglie di educatori potranno accogliere bimbi in cerca di aiuto e poi case popolari occupazioni abusive nuovo sgombero in via Rimini e poi rifiuti lungo il fiume due denunce operazione della guardia costiera scoperta discarica abusiva a Spoltore abbiamo visto anche in precedenza la notizia su questa vicenda ancora Spoltore provincia di Pescara piove dentro l'asilo genitori inviperiti infiltrazioni d'acqua nella scuola dell'infanzia riconsegnata venerdì scorso dopo i primi lavori antisismici ancora Spoltore da oggi a domenica seconda tappa di Street Food Festival e poi a via Pescarina auto fuoristrada provoca fuga di gas subito risolta proseguiamo con la cronaca che arriva da Francavilla al mare può ripartire l'iter per il contatto di foce del fiume Alento l'assessore all'ambiente Bellomo convoca un incontro pubblico dopo l'istituzione dell'ufficio regionale e a manoppello siglato un gemellaggio con la città di Carovilli proseguiamo pagina di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara otto pecore sbranate da un branco di lupi paura ad abateggio allarme per i predatori affamati che scendono a valle la provincia chiede al prefetto un consulto di esperti proseguiamo siamo alla pagina dell'Aquila sempre dal centro dipendenti furbetti l'inchiesta della finanza Pratola Peligna in questo caso si parla di questa inchiesta di cui vi avevamo parlato anche ieri impiegati assenteisti anche nei comuni intercettati altrove durante l'orario di lavoro si allarga l'indagine della finanza cominciata alla ASL e sfociata in quattro denunce e poi l'Aquila ok alla proroga dei precari stop alla protesta e a Sulmona cronaca pannello cade e danneggia un'opera d'arte e poi in basso vi racconto l'incidente con Dipangrazio Avezzano parla lo chef ferito dal SUV guidato dal figlio del sindaco mi ha soccorso non l'ho visto questo è il racconto del giovane ferito e siamo a Chieti schianto tra due auto muore Avvocatessa torniamo sulla tragedia accaduta ieri sulla Fondovalle Alento in cui ha perso la vita Silvia Gennaro che è morta sul colpo ferita gravemente una 24enne di Scerni il sindaco Rucci il sindaco di Ripateatina dice strada pericolosa abbiamo visto prima il servizio proprio su questo terribile incidente e si parla ancora di questa donna vicina ai bisognosi aveva un cuore grande guardia grele sotto shock il sindaco dal Pozzo annulla la festa di domani di chiusura dell'estate e il presidente dell'ordine degli avvocati di Chieti Tenaglia dice ha lasciato il segno con il suo lavoro l'ordine forense in lutto ancora incidenti in via Liri in questo caso a Chieti si scontra con la betoniera in prognosi riservata e poi il maltempo passante sfiorato dal crollo del cornicione e proprio il maltempo sarebbe alla base dell'incidente mortale di ieri siamo alla pagina di Teramo l'operazione della finanza abbiamo visto poco fa il servizio di Francesca Romana Testi su questa indagine e la scoperta della catena cinese per imbrogliare il fisco la conferenza stampa tenuta dal procuratore guerriero ancora cronaca pedopornografia cinquantenne Teramano patteggia cinque mesi e poi in basso Sarta Giuliese di 49 anni vince la fascia di Miss Nonna Chic e poi pesistica Glenda Narcisi Argento ai campionati italiani siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere insieme il quotidiano la città di Teramo per seguire per vedere i titoli partendo proprio dalla prima pagina per poi proseguire con le pagine interne del quotidiano che approfondisce in particolare gli argomenti e le tematiche che riguardano la cronaca di Teramo allora iniziamo con la prima pagina della città il titolo di apertura è sull'inchiesta sull'operazione della guardia di finanza proprio a Teramo anche i cinesi frodano il fisco tra le ginserie della Val Vibrata scoperta maxi evasione da 800 mila euro scattano i sequestri e poi calcio vedete la foto con Vincenzo Vivarini la tecnico del Teramo oggi la presentazione della squadra in comune c'è tanta voglia di scendere in campo e il Teramo giocherà sabato l'attesa gara d'esordio di campionato in attesa poi di recuperare le partite non disputate nelle scorse settimane proprio con il Savona andiamo avanti pagina 3 cronaca regionale nuova doccia gelata sui punti nascita il TAR raccoglie la sospensiva per Ortona Febbo esulta Paolucci lo zittisce da ragione alla regione dice l'assessore alla sanità poi ambiente trivelle sia il referendum regionale contro le norme dello sblocca Italia economia crolla l'export abruzzese verso i paesi emergenti e poi agricoltura rimborsi per gli agricoltori danneggiati dalle alluvioni andiamo avanti pagina 5 si torna sulla vicenda sull'inchiesta della guardia di finanza anche le ditte cinesi frodano il fisco la guardia di finanza sequestra beni per 800 mila euro a 7 titolari di laboratori di jeans della Val Vibrata pagina 6 in tribunale arrivano due metal detector a Teramo dopo i cancelli esterni nuove misure di sicurezza per proteggere il palazzo e separare gli utenti dagli addetti ai lavori e poi sulla pedemontana tentano il furto sradicando la colonnina del self service con un furgone proseguiamo pagina 7 cronaca patteggia 5 mesi per la pedopornografia il cinquantenne Teramano era stato arrestato il 20 giugno scorso dalla Pol Post per detenzione di foto e video con minori poi ancora cronaca siamo a Villa Gesso evade dai domiciliari ma prima di uscire chiama i carabinieri pagina 8 entro gennaio i piccoli comuni devono accorparsi la prefettura guida 27 sindaci teramani per l'unione di polizia anagrafe sociale scuole piano regolatore e ragionerie siamo a pagina 9 tasse Brucche a Lancine canta 4 a Fassino il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi a Roma proprio per parlare di Teramo e non solo sindaci stufi di fare gli esattori per il premier Renzi siamo abbandonati su fondi immigrazione e prefetture ha detto Brucchi al presidente dell'Anci Pietro Fassino che tra l'altro è sindaco di Torino siamo a pagina 10 incidenti sotto la pioggia tre automobilisti feriti a Piano Daccio e Colle atterrato ancora avanti siamo a pagina 12 pagina della provincia provinciali ecco la lista della spesa di Sabatino quarto lotto da riprogettare l'intervento in Valfino riguarda Pescara e poi Abruzzo Civico siamo ad Atri la viabilità di Atri resta dicono gli esponenti di Abruzzo Civico in particolare Paolo Basilico in condizioni disastrose pagina 13 fallimento Cirsu scende in campo d'Alfonso i sindaci dei comuni soci oggi incontreranno il presidente della regione per chiedere sostegno in vista dell'appello e poi i comuni montani siamo sempre in provincia di Teramo si uniscono per il sociale proseguiamo pagina 14 Val Vibrata furto in villa portati via oro e preziosi a Tortoreto ad Alba Adriatica denunciato per minacce e porto d'armi e ad Alba sempre ad Alba Adriatica provoca un incidente e fugge senza prestare soccorso Macedone rintracciato e denunciato dai carabinieri del radiomobile siamo a pagina 15 Giulianova Mosciano Tar la settimana corta non è un problema negata la sospensiva della delibera ma alla De Amicis non è stata applicata ancora Giulianova tormentone Tari scintille tra il sindaco e il consigliere Retco Mosciano mano nella macina del rame operaio perde quattro dita è stato operato questo operaio vittima di questo incidente sul lavoro poi pari opportunità anche Giulianova alla conferenza mondiale sulle donne di Milano andiamo avanti pagina 16 Roseto la città dove la cultura sta morendo d'estate tutto l'aperto d'inverno niente spazi pubblici Felicioni attacca dice vent'anni di immobilismo e poi a Pineto a Mutignano le celebrazioni in onore di Sant'Ilario e poi Sottanelli deputato che scrive al ministro sul caso dell'insegnante disabile che è costretta a viaggiare e spostarsi per 250 chilometri per andare al lavoro e poi l'intervista Comignani la sua e l'amministrazione del nulla si parla di Silvi dell'amministrazione del sindaco Comignani in questa intervista del consigliere d'opposizione Enrico Marini che attacca tutto campo su scuole ambiente lavori pubblici e piano regolatore poi Silvi Parco Tancredi esponente nazionale di NCD scende in campo per Dorazio siamo arrivati alla pagina della cultura nel mio concerto l'omaggio a Ivan Graziani parte stasera da Sant'Egidio il tour di Federico Poggi Pollini il chitarrista presenta Nero il suo quarto album da solista andiamo ancora avanti Castelli un anno fa se ne andava il sindaco artista oggi la messa per celebrare l'indimenticato Enzo De Rosa e siamo lo sport Teramo tanta voglia di ricominciare mister Vivarini carica la squadra in vista della sfida con il Savona noi siamo andati ad ascoltare proprio il tecnico Biancorosso alla vigilia dell'esordio di campionato Vincenzo Vivarini la prima parola che viene in mente è finalmente beh sì abbiamo tanta voglia di giocare soprattutto ritornare a fare le cose che sappiamo fare è chiaro che tutti i giocatori hanno voglia di scendere in campo perché il calcio poi è quello quello che c'è stato prima non è calcio destino però Beffardo si riparte dal Savona neanche a farlo apposta però la concentrazione sarà ora sul campionato diciamo noi abbiamo sempre cercato di star concentrati sulle cose da campo problemi di squadra robe varie e adesso è il momento di andare a vedere in che in che stato stiamo ci sono tante incognite per questa partita perché non abbiamo potuto testare bene la squadra in partite ufficiali e soprattutto anche non abbiamo potuto sicuramente analizzare e far integrare i nuovi arrivi alla vecchia squadra insomma quindi ci sono grandi punti interrogativi per la partita di Sabba siamo al campionato di serie B pagina dello sport dal centro scossa Oddo Pescara ti voglio cinico e spietato l'allenatore ieri nella conferenza stampa prima della partenza per Vicenza chiede alla squadra risposte importanti in vista della gara del menti gli avversari manino in emergenza sono otto gli assenti e poi sotto in basso vedete inglese debutta in A e fa sorridere i club vastesi l'attaccante del Chievo farà incassare 54 mila euro di premio a Don Bosco e Virtus parliamo del lanciano Ferrari prepara la vendetta dell'ex Modena vinciamo noi l'attaccante rosso nero è arrivato ad agosto in Abruzzo dagli emiliani i frentani domani devono però sfatare il tabù del Braglia serie D ecco gli accoppiamenti della Coppa Italia Chieti Giulianova e Avezzano Amiternina si sfideranno mercoledì il San Nicolò parte dal secondo turno e poi ancora serie D il presidente dell'Avezzano Paris avverte i tifosi basta multe altrimenti Lascio Lega Pro Vivarini finalmente si gioca ma è un teramo da scoprire lo abbiamo ascoltato pochi istanti fa Ceccarelli carica l'Aquila Lega Pro bisogna reagire poi eccellenza Turbo San Salvo tensione acqua e sapone chiudiamo con le pagine dello sport del messaggero prima di salutarci Pescara Oddo gioca d'anticipo parliamo del Pescara che è partito con un giorno proprio di anticipo verso Vicenza sarà una gara molto diversa da quella dei playoff ha detto il tecnico dirige Pezzuto il portiere Aresti resta a casa e poi si parla del Lanciano in basso Ferrari a Modena per sfidare il suo recente passato Lega Pro l'Aquila ad Ancona con il dubbio Benasià e poi siamo al calcio di Lega Pro Teramo in campo oggi la presentazione della squadra calcio a 5 un punto in meno e stasera il big match il Pescara penalizzato per un debito con l'ex portiere Cellini estinto in ritardo al palaricopiano arriva il temibile Corigliano seconda giornata del campionato di calcio a 5 siamo giunti così al termine dell'edizione di oggi di mattino 6 a me non resta come sempre che ringraziarvi e ricordarvi anche l'appuntamento con la prima edizione del TG6 oggi come sempre alle 14 grazie e buon proseguimento di giornata di giornata che ringraziarvi